La stagione 2 ci porta ancora più in profondità nei segreti di Twin Peaks. Se invece fosse stato Beverly Hills, ci avrebbe portato ancora più in profondità nei segreti di Beverly Hills. Tra scontri amorosi, rapimetti e ulteriori scaramucce, Cooper continua a cercare il killer di Laura. Finalmente scopriamo il colpevole, l'Eland Palmer posseduto dal malvagio spirito di Bob, che oltre ad avere un nome di Matt ed essere il padre di Laura Palmer, ha anche fatto in modo che, a quel punto, la maggior parte degli americani smettessero di seguire la serie.